Finisce nei guai una abadante ucraina di 73 anni scoperta dalla guardia di finanza di Pesero nell'approfittarsi in maniera spregiudicata del suo anziano assistito incapace di intendere di volere. La donna gli aveva infatti svuotato il conto in banca ed era pure riuscita a farsi intestare due immobili presentando un falso testamento olografo che la autoproclamava come unica erede dell'anziano che era deceduto a fine 2020 dopo aver sofferto per anni di gravi patologie cardiache. La guardia di finanza di Pesero ha però scoperto l'attività illecita avviando le indagini su disposizione della procura. Indagini che erano state sollecitate dalla richiesta dell'amministratore di sostegno dell'anziano che si era accorto come i conti non tornassero. Le indagini di polizia giudiziare hanno infatti scoperchiato sospetti movimenti di conti correnti con flussi di denaro a beneficio della badante di ben 60.000 euro così come hanno scoperto il fatto che la donna pochi giorni dopo la morte del suo assistito si fosse presentata da un notaio pesarese con tanto di testamento in cui era previsto il trasferimento a suo favore dei due immobili di proprietà dell'anziano. Le indagini hanno però evidenziato come la data dell'atto scritto in stampatello fosse successiva a quella indicata nel verbale redatto dalla commissione medica che aveva riconosciuto la totale incapacità dell'anziano ad adempiere ai normali atti della vita quotidiana. Ad aggravare il tutto il fatto che la donna avesse presentato una dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate indicandosi come unica erede sebbene al contrario vi fosse già la presenza di una persona con tale status. La scaltra badante è stata così denunciata per appropriazione indebita e circonvenzione di incapace e le sono state sequestrate le somme e gli immobili illegalmente sottratti.